Ah, il centro. Già. Leslie era ricoverato qui anni fa. Sarà venuto qui alla ricerca di un rifugio sicuro. Lei sa dove siamo? Questo centro è gestito da mio fratello. Ci farà entrare. Non ha risposto alla domanda. In realtà non lo so. Forse sto diventando pazzo e lei non esiste nemmeno. Ma mi piace pensare che ho ancora uno straccio di dignità e il dovere di proteggere un paziente. Lei è la legge. Vale lo stesso per lei. Speriamo che suo fratello non sia così. Aiuto! Aiuto! Ma che diavolo ha che non va? È sceso laggiù. Alla prossima! Grazie a tutti. Dobbiamo trovare il mio paziente, Leslie. Aiuto, aiuto, aiuto. Oh, grazie al cielo. Il dottor Jimenez è qui. Ora, calmati. Dottore, un attimo. Sta arrivando qualcuno. Qualcosa è qui. Stai calmo. Va, paura. Stai fermo. No. No. Non c'è niente da temere. Questo posto è una trappola. Esisterà un posto sicuro. Purtroppo, ne dubito. Non si esce. Non si esce. Dobbiamo andare. Per di qua. Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Le scale sono sparite. Forse siamo impazziti tutti quanti. Impazziti tutti. Impazziti tutti. Impazziti tutti! Impazziti tutti! Impazziti tutti! Oddio. No. Ruvik. Sei... sei tu. Leslie, che ti ha lo sei? No! Non farlo! Ma che... Dottore? Leslie? Cazzo. Che diavolo succede? Che diavolo succede? Che diavolo succede? Grazie a tutti. 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 Non molli mai. Ce l'ho fatta. Non ci credo. Non... 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 Non...